Ancora una giornata di formazione al Centro Chirurgico Toscano, nel workshop organizzato nella giornata di oggi, si è parlato di tendini e loro patologie. Sì, i tendini sono indubbiamente uno degli anelli deboli del nostro organismo. Ho cercato di organizzare una giornata nella quale ho voluto mettere a confronto vari specialisti, non soltanto della chirurgia ortopedice ma anche della parte riabilitativa e della parte internistica. Quindi un quadro a 360 gradi su un problema veramente importante. Purtroppo la limitazione funzionale è estremamente invalidante perché finché le articolazioni si muovono in maniera fluida, in maniera adeguata, le persone non si accorgono di averle. Quando poi l'ingranaggio non funziona come dovrebbe, è lì che le persone si rivolgono al medico e diventa invalidante perché non si riesce più a compiere le attività quotidiane, anche quelle più semplici. Perché in alcune persone, per motivi di predisposizione genetica, a contatto con stimoli ambientali, che possono essere anche quelli di una normale vita quotidiana, lo stress, alterazioni della biomeccanica, alterazioni funzionali, delle strutture articolari, nonché agenti batterici e infezioni intercorrenti, possono crearsi dei blackout, degli squilibri immunomediati che causano poi un'infiammazione difficile da risolversi senza delle adeguate terapie. Ci vuole anche l'intervento in alcuni casi? Gli interventi sono necessari soprattutto nelle patologie datate e come dicevo è importante la collaborazione con l'ortopedico poiché le alterazioni biomeccaniche tendono a sostenere l'infiammazione. Grazie. Buongiorno.